Salve a tutti, oggi parliamo delle scale da eseguire per ottenere la certificazione inizial del Trinity College London per bioncello L'inizial prevede queste tre scale Do, Sol e Re con tre ritmi diversi La scala di Do con il ritmo quattro crome e due semi minime sulla stessa nota La scala di Sol con un altro ritmo semi minima, due grove, semi minima sulla stessa nota e poi si cambia nota La scala di Re invece con il ritmo due crome Spero che questo breve video sia servito a coloro che sono in procinto di dover sostenere questa certificazione quindi di avere chiaro quali scale fare Se optate per il nuovo digital exam potete eseguire, anzi dovete eseguire due sole di queste scale o Do e Sol oppure Sol e Re Ci vediamo al prossimo video in cui vi spiegherò le scale per le successive certificazioni A presto!